ultimamente ho scritto questo libro tutto in un istante che è il racconto del percorso di una vita non solo del viaggio spaziale un libro che parla anche di spazio ma è un libro che parla soprattutto di passione e di determinazione per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo è un libro dedicato a tanti grandi e piccoli che stanno ancora cercando la loro strada e che spero possa fornire uno strumento per chiarire meglio i loro obiettivi e essere di aiuto nelle scelte della loro vita